Due giorni nel cortile del complesso monumentale di Santa Chiara, oggi e domani, per promuovere il volontariato e la cooperazione, dando visibilità alle azioni solidali tra la cittadinanza e dalle buone prassi del volontariato. È la Fiera dei Beni Comuni, organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato di Napoli, ed offre una visione alternativa riguardo agli stili di vita, sensibilizzando la cittadinanza verso concetti come sostenibilità, legalità, beni comuni, attenzione verso l'altro e comportamenti consapevoli. Rafforza quanto in città è fortemente sentita perché Napoli è un laboratorio di politiche sociali, è un laboratorio che sperimenta sempre più l'uso dei beni comuni, cioè dei beni sentiti dalle collettività e dunque questo rafforzamento e questa l'iniziativa di oggi diventa un appuntamento che sottolinea ancora di più quanto la città percepisce con forza. I beni comuni entrano tra gli obiettivi da perseguire per le collettività, di recente abbiamo adottato anche e approvato una delibera in consiglio comunale sui beni comuni, vado a dire sul prevalente uso pubblico, dei beni abbandonati da restituire alle collettività a partire da istanze, proiezioni, bisogni e desideri delle collettività di riferimento. Una città che crede nei beni comuni, nella partecipazione, nella riappropriazione anche di luoghi che sono stati abbandonati e poi voglio dire con particolare orgoglio che è l'unica città d'Italia medio grande che ha attuato il referendum sul primo bene comune che è quello dell'acqua. Molto bene che ci sia sempre di più una convergenza tra istituzioni e cittadini. Io sono molto contento, anche recentemente proprio con il CSV abbiamo presentato l'agenda della cittadinanza attiva al comune di Napoli, quindi tantissime iniziative di solidarietà, di partecipazione, di etica collettiva per i giovani, per gli anziani, per le nostre comunità, la formazione di un terzo settore anche più dinamico che si fonda molto su una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato in un'ottica di valorizzazione delle nostre comunità, quindi io sono soddisfatto del lavoro che si sta facendo e anche il risanamento delle casse del comune di Napoli con l'operazione che abbiamo messo in campo noi ha favorito una collaborazione tra operatori sociali, operatori culturali, terzo settore, volontariato e il comune di Napoli. Grazie a tutti.